Nuovi scavi sul tracciato della Via Appia. Da pochi giorni è iniziata la nuova campagna di scavi presso il Parco archeologico di Muro Tenente. Ad eseguirli la libera Università di Amsterdam sotto la supervisione di alcuni archeologi. Studenti ed esperti continuano dunque a scavare per riportare alla luce altri 50 metri dell'antico tracciato, la Via Appia Antica, che collegava Roma con Brindisi. Il direttore scientifico del parco auspica che l'intesa con le università prosegua anche nel futuro. Dopo i timori, a seguito del rinnovo della convenzione siglata dai comuni di Latiano e Mesagne.